Gli applausi a Venezia e il sold out a Napoli. Sfida la paura per gli spazi chiusi e riporta la gente in sala, qui rido io, l'ultimo film del regista napoletano Mario Martone sulla figura controversa di Edoardo Scarpetta, grande genio del teatro nei primi del Novecento e pater di un disomogeneo nucleo familiare, fatto di mogli, amanti e figli legittimi e illegittimi, come Edoardo, Peppino e Titina De Filippo. Presentato in concorso alla settantottesima mostra del cinema di Venezia, il film ha fatto il tutto esaurito nelle prime quattro giornate di proiezione a Napoli, dove ieri si è tenuta l'anteprima nazionale. Noi abbiamo tenuto fortissimamente a fare questa anteprima a Napoli, abbiamo sfruttato la possibilità perché il 7 era a Venezia e il 9 domani esce in tutta Italia. Abbiamo detto, abbiamo chiesto la distribuzione e noi vogliamo fare un'anteprima a Napoli e appunto proprio con la voglia di condividere l'emozione dell'apertura di questo film col primo pubblico al quale questo film è dedicato, cioè il pubblico dei napoletani. Con il regista su Red Carpet gli attori del cast, tra cui spiccano Tony Servillo ed il giovane Edoardo Scarpetta, erede della dinastia. Mediamente il carico di difficoltà che c'è sempre nell'affrontare dei personaggi con questa complessità di personalità. Scarpetta era in teatro capocomico, impresario, drammaturgo. Nel film si racconta una parabola interessante, forse questo ha rappresentato una certa difficoltà, raccontarlo re di Napoli e poi raccontare anche l'inizio di una depressione che lo porterà ad abbandonare le scene.